L'Hankuk Winter Isept RS2 è un pneumatico invernale approvato rigomma. Scopriamone caratteristiche, pregi e difetti. Ma prima se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Il nuovo prodotto invernale della casa coreana è dedicato a vetture compatte e di media grandezza. Un numero elevato di intagli aiuta in maniera efficace la presa sulla neve e migliora le prestazioni di trazione. Le lamelle 3D garantiscono un miglioramento della stabilità di guida minimizzando il movimento del tassello. Il design con scanalatura laterale garantisce un'aderenza massimizzata prevenendo l'acqua planning su strade bagnate attraverso un'efficace espulsione dell'acqua in direzione laterale. La mescola in silicio ad alta aderenza permette una trazione su neve bagnato migliorata e una minore resistenza al rotolamento. Infine la cintura rinforzata a copertura completa senza giunture assicura una rigidità del battistrada ottimale e migliora le prestazioni di maneggevolezza. In sintesi l'Hankuk Winter Isept RS2 garantisce prestazioni di trazione frenata affidabili sulla neve, una guida stabile sul fondo stradale bagnato e un'ottima manovrabilità sull'asciutto. I risultati dei test sono per auto build buono, ottime prestazioni di guida sulla neve, handling equilibrato su asciutto, chilometraggio discreto, tenuta laterale nella media, modesta precisione dello sterzo in condizioni di bagnato. Per auto express molto buono, buone prestazioni su neve, molto buone le performance su bagnato, vicino alle migliori quelle sull'asciutto. Non è il pneumatico più economico del test, consuma circa il 2% in più di carburante rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Per ADAC, buono. Buono per risparmio di carburante, buone le prestazioni su asciutto, bagnato e neve.